L'ultima escursione. Nella valle deserta, solcata da sentieri senza nome, sodono solo strilli di marmotte e frinire di grilli che saltando e correndo cercano rabbiosi la salvezza nel tramonto variegato. Poi, dall'ombra emergendo, l'alba invade alte cime corrugate e bivacchi e rifugi abbandonati. In quel silenzio suggestivo racconta un torrente con rauca voce storie antiche. Poi volge al mare e si immerge in un bagno di luce che ricrea la vita. E allora non ti penti della scelta e t'avvi di nuovo entusiasta per l'ultima escursione.